Vi servono crediti? FIFA15CoinSmile troverete il link e il codice coupon qui in descrizione Sono veloci, affidabili ed economici Bentornati ragazzi su Giovi HD Spol Siamo qui con questo nuovo video, questo nuovo spacchettamento estremo Pack opening estremo In cassaforte, abbiamo in cassaforte A disposizione spenderemo 500.000 crediti Alla ricerca di uno di questi giocatori Ronaldo, mamma mia che bestia E Ibrahimovic Siamo di nuovo su Android Io non mi perdo in chiacchiere Vado ad aprire il primo pacchetto da 25.000 crediti E speriamo che qualcosa esca di buono 78 Coleman Merda assoluta Dai, dai Hazard Hazard, tu ci porterai qualcosa di cui non abbiamo mai visto prima Ovvero, ci darai qualcosa in più che nessun 82 Alex Siamo a Angland, chi vrà cut Vediamo? Basta, che merda Non ci arrendiamo Apriamo il prossimo, il terzo Perderò il conto sicuramente Hazard Paffanculo Passiamo all'altro pacchetto Dai Dai Tutti sulle mani Io Tanta Valencia Che merdose Di Santo Vargas Vabbè Il prossimo pacchetto Iguain Questa volta Ho già perso il conto dei pacchetti che ho aperto Credo che questo sia il quinto O il sesto Boh Iguain Malaffan Cappola Dai Dai È il Pepita Vai Rodrigo Gonzalo Iguain No Rodrigo Col cazzo sto dicendo Gonzalo Iguain È giro L'abbiamo trovato in questo pacchetto Secondo me ha detto l'errore Mi è uscito Un cazzo Vabbè Procediamo senza sosta Hazard sulla sosta Sulla rosta Ma che cazzo sto dicendo È Tanta tre ne credo Tanta tre ne credo Di Ruffier E E Beh 136 crediti Cazzo Sono assai È di Santo Per la Di Santo Per la seconda volta Hazard Questa volta Non ci deludere Hai alla protesta Messi No Un if Si se Si se A meno un if È uccito È David Silva ragazzi David Silva Ma non cazzo Ma vabbè Si se Vediamo la scheda Si chiama Papi Demba Si se Mamma mia Che giocature Non l'ho provata Non so Come possa essere Comunque Un if Prossimo pack Dopo l'if Ci vuole Un altro if Questa volta Sarà Adler Che merda Mkhitaryan Defoe Basta Si Dai Questo Mi sento Che Non sarà Il pacchetto Decisivo Il super Pacchetto Di nuovo Errore Però Il pacchetto L'ho aperto Guanyama E Schurrall Insomma Vabbè Nessuno Ci può fermare Apriremo Il pacchetto Con Griezmann Copertina E Giro 84 Higuain 84 Higuain David Villa Jes Rodriguez Un pacchetto Gratis Continuiamo Imperterriti La nostra strada Verso Ibraif Ronaldo Sif Chi c'è in questo pack Chi c'è Vai Dai C'è Torre Traore Benaffa Sif Son Gak B E Nessun Prossimo Continuiamo Senza sosta Questo pacchetto Vediamo Giriamo La palma Dai Sterling Insomma Dai Sterling Dai Insomma Vabbè Dai Non so nemmeno più Cosa dire Cosa fare Cosa dire Per trovare Qualcuno Un altro If Per Sif Secondo If Bene 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 Mi fa piacere Mi fa piacere Per Sif Mi fa piacere Vediamo Basta Eh Per Sif Dai Vabbè Almeno il secondo If Vediamo le sue statistiche Un attimo Dettagli Vabbè Già c'è Le sue statistiche Comunque Bene Un altro If Andiamo bene Procediamo Andiamo bene Andiamo bene Dovevo trovare il terzo If Perché non c'è due Senza tre Oh bloody Oh blada Apriamo questo Pacchetto E Troviamo i piatti Oh bloody Oh blada Abbiamo trovato due piatti Guacaso i piatti Un pacchetto Voglio schippare Questo con David Alamo E lo schippo Schippiamo E troviamo Uh 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 Closet Closet E basta Basta Non schippo più Questa volta c'è Howard Sulla nostra copertina E Howard gira Con questa pallo 83 Star Ridge Buono Non è fortissimo Star Ridge E vale qualcosina Vediamo E basta 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 Star Ridge Buono Questo pack opening Si avvia la sua Naturale conclusione Con questo pacchetto Che non è l'ultimo Vediamo Esce Howard Ed esce Settà Ma dai Di nuovo Ferdinand Non mi perseguitare Vattene Per favore Vattene Vai Esci Dai Vai Vai Howard Sei la nostra Speranza Sei la nostra Salvezza Per trovare 80 Ma dai Di nuovo Due piatti Mi ho tratto Sao piatti Piatti Sao Ma dai Ma dai Ultimo pacchetto Questa è la nostra Ultima speranza E in questo pacchetto Uscirà Il mega Giocatore Ma Peppa Vaffanculo Vaffanculo Dai Non ci credo Non ci credo Io non prendo Questo lo scarto Perché non mi interessa E dunque ragazzi Il pack opening Termina qui Se volete Il prossimo Pack opening Arriviamo A 25 likes E carico Il prossimo Pack opening E dunque ragazzi Dittemi Se volete Altri pack opening Dittemi Arriviamo A 25 likes Per il prossimo Pack opening Dunque Se vi è piaciuto Un pollice All'insù Ed iscriviti al canale Qui Vi saluto Ma vaffanculo Che pacchetti Di merda